qui nella persona del dottor Vita che è anche collaboratore e organizzatore di questo evento insieme alla nostra associazione di volontariato ed è anche in figura istituzionale e amministrativa perché è l'assessore alla salute del comune di Monfalcone, il dottor Vita. Quindi ringrazio l'amministrazione e anche una banca che ci aiuta ogni tanto nel sostenere i nostri progetti e dopo vi dirò che ci dà un grosso aiuto invece in questo progetto che poi vi dico quando farò la mia relazione. Credo di non avere dimenticato nessuno nei ringraziamenti e adesso passo al dottor Vita che presenterà i nostri decani. Buongiorno, grazie a tutti. Ormai questo è un appuntamento che sta diventando una consuetudine. Con tanti colleghi ci vediamo da tanto tempo, che vengono oltretutto da luoghi anche distanti e quindi grazie veramente per essere venuti anche con tante difficoltà. Professor Marchini, so che tu hai avuto... Ormai ci dobbiamo abituare, visto le variazioni climatiche, penso che i trasporti dovranno essere un attimo implementati in questo paese, non solo, un po' dappertutto. Quindi grazie, io vi devo ringraziare innanzitutto per essere qui e vi devo salutare perché rappresento un po' l'amministrazione comunale oggi. Doveva essere qui con noi Anna Maria Cisint, che era il nostro sindaco fino a un mese fa, ma che è stata eletta come parlamentare europeo. Doveva essere qui, ma ha avuto un impegno dell'ultimo momento, per cui mi ha incaricato di portarvi i saluti suoi, i saluti dell'amministrazione comunale. Io direi che non aggiungo altre parole perché Daniele ha già ringraziato tutti, quindi darei un attimo il via al congresso. Perfetto. Grazie a tutti ancora e buona giornata. Prendi il programma, così se devi dire chi è il moderatore e cosa... Ci siamo dimenticati di anche ringraziare la direzione generale di Asugi, che ci ospita qui, perché è casa del dottor Vita, ma è casa di Asugi. Qui abbiamo la dottoressa della Vedovea in rappresentanza del direttore generale. Grazie dottoressa. Buongiorno a tutti e vi porto i saluti del direttore generale, dottor Poggiana, e del direttore sanitario, dottor Pittioni. E' veramente un ringraziamento per essere qui, un ringraziamento alla dottoressa Paoli per aver organizzato questo evento e ovviamente anche al dottor Vita e a tutto il suo staff per il grande lavoro che fanno all'interno dei nostri ospedali. Quindi credo che sarà una giornata veramente ricca di grandi contenuti, e grazie ancora per la vostra presenza e buon lavoro. Grazie Anna, grazie, grazie dottoressa della Vedova. Bene, allora la prima sessione chiamerei intanto il presidente, il dottor Paolo Brusini, se vuol venire... A commentare. La relazione introduttiva della dottoressa Paoli. Prego. Inizio subito. Ah no, io posso parlare anche con questo coso nuovo? Come faccio? Parlo così? Ok. Chiudo qui, no? Però rimane sempre rosso. Boh, vabbè, è rosso. Scusa, ti passo avanti. Allora, devo ringraziare anche Paolo Brusini, perché in questa iniziativa di questa associazione lui mi ha sempre sostenuto, ed è la nostra colonna. Chi è venuto a tutti i nostri incontri l'avrà visto sempre, sempre. Lui come presidente, come relatore, come contro-relatore. Cioè, fategli un applauso perché è un uomo veramente unico. Sì, va bene. Allora, dunque, aspettate, perché sono un po' imbranata. Chi mi dà il telecomando per far andare avanti le diapositive? Questo? Ah no, ecco qua. Bene. Come vuoi. Va bene, allora, questa è una mia relazione introduttiva. Serve un pochino per darvi il tempo dopo una mattinata di lavoro per prendere fiato, per prepararvi a questo congresso che questa volta è di mezza giornata, ma ci dà abbastanza crediti. Un po' anche per giustificare i temi che abbiamo scelto e per ricordare anche una persona che ha lasciato vuota la casa, che ha lasciato un vuoto sicuramente, la casa degli oftalmologi e soprattutto di coloro che si occupano di glaucoma. Come quasi tutti sapranno, Stefano Gandolfi il 2 settembre di sera è mancato e con lui mancherà una persona che si è dedicata molto alla ricerca, ma era una persona anche molto disponibile. Chi l'ha conosciuto non può che ricordarlo per sempre. Allora, grazie. Allora, quindi la mia relazione introduttiva, sapete che questa associazione è nata per dare praticamente, per creare il paziente esperto e rinforzare l'alleanza tra paziente e i sanitari, i medici, gli ortotisti e gli infermieri che si occupano dell'oculista. Sappiamo benissimo che il tempo che possiamo dedicare ai nostri pazienti, soprattutto nelle strutture pubbliche naturalmente, è molto contratto e quindi avere a fare con una persona che capisce che cosa deve fare e quello che noi gli prescriviamo, secondo noi, è molto importante. Ampig, però, non è soltanto un'associazione di volontariato come una bocciofila, eccetera, è anche un'associazione che ha prodotto dei lavori scientifici che abbiamo portato in tutto il mondo, posso dire, perché anche in Sudafrica ed è partner di importanti società e di università con le quali collabora. Noi siamo tutti volontari e tutti facevano lavori intellettuali, non solo medici, ma professori, eccetera, e viviamo di chi ci dà qualcosa per andare avanti, ma soprattutto per il 5 per 1000. Quindi io sono qui anche per chiedere, perché ci sono tante persone che possono farlo e non costa niente. Vi ricordo che il 5 per 1000, anche per chi è religiosissimo e vuol lasciare qualcosa alla chiesa, il 5 per 1000 non toglie niente alla chiesa. Nella vostra cartella troverete un modulo, se volete, quando è il momento della dichiarazione, potete farlo senza peso, diciamo. Un progetto in itinere adesso, noi di solito ci rivolgiamo ai pazienti, ma questa volta vogliamo fare qualcosa anche per chi è sano oppure per chi è malato ma non lo sa, quindi per i cittadini. E come vedete qua c'è un banner, solo uno, che è il primo, che è alla vostra destra, che abbiamo creato, ma i banner saranno più di uno. Quello che voi vedete è questo qui, sempre alla vostra destra, che è riassuntivo. Cosa vogliamo fare? Vogliamo portare questi manifesti nei luoghi di transito dei cittadini, quindi non dei malati, dei cittadini, oppure nei luoghi anche di stazionamento, negli ospedali. E anche in questa iniziativa abbiamo bisogno di voi, dei medici, anche i medici di famiglia, ma soprattutto degli oculisti, visto che parliamo di occhi, perché daremo delle informazioni, anzi sono già scritte nei tabelloni, delle informazioni molto semplici, che perché, addetto ai lavori, possono sembrare molto banali. Però vi assicuro che dal punto di vista dei pazienti, molte cose sono sconosciute. Questa, diciamo, è l'iniziativa nuova di questo anno. Questo perché la diffusione delle malattie oculari nel mondo è elevata e le malattie che abbiamo scelto, a parte la cataratta, per cui c'è un, diciamo, un'attività chirurgica, sappiamo che queste malattie possono essere o rallentate o addirittura prevenute, come nel caso, per esempio, della retinopatia diabetica. Facendo, infatti, un questionario, l'Istat ha fatto un questionario sui disturbi oculari, c'è una grandissima percentuale di persone che dichiara di non vedere bene. Naturalmente, in questo non vedere bene possono esserci anche le ametropie, disturbi visivi, però ci sono sicuramente anche delle malattie misconosciute che noi pensiamo che sia utile che le persone siano informate. Purtroppo, nella nostra nazione, non abbiamo un'omogeneità né di informazioni, né di assistenza sanitaria e né di consapevolezza. Abbiamo tre itaglie, come sempre, dal sud, che è quella che va meno bene, al centro e al nord va meglio. E questo, quindi, noi siamo un'associazione nazionale, però, di fatto, operiamo in questa zona. Sarebbe bello che si potessero, queste cose, a macchia d'olio, pian pianino, andare anche più a sud. Chi lavora in ospedale avrà provato sulla sua pelle che l'oftalmologia viene considerata una specialità non importante, comunque non elettiva, per cui tutte le altre specialità vanno davanti, sia nei turni operatori, se c'è qualcosa di diverso, tu puoi aspettare, noi non possiamo aspettare, ma soprattutto quello che sta succedendo è che i reparti di oculistica si riducono e praticamente si sta andando verso una situazione come per l'odontoiatria, cioè che l'oculistica sarà tutta privata e quindi, purtroppo, le classi più basse, le persone meno colte e meno abbienti avranno quasi sicuramente una minore possibilità di vedere bene e di prevenire le loro malattie. E questa è una cosa che secondo me noi operatori, non solo gli oculisti, noi operatori in oftalmologia dovremmo cercare di opporci, perché anche gli atti quotidiani più banali fatti senza vedere in maniera chiara sapete che sono estremamente difficoltosi senza pensare al lavoro e a tutto quello che si ripercuote sulla famiglia. Del resto, facendo questo, cioè dimenticandoci, mettendo da parte l'oculistica, stiamo facendo anche qualcosa contro l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché ha dato dei diktat all'organizzazione LOMS dicendo che in effetti queste cose vanno fatte, perché se per noi è grave, per il mondo occidentale è grave non vedere, però pensate che nei paesi emergenti non vedere significa morire, quasi sicuramente. Bene, per il glaucoma praticamente è noto che diagnosi, trattamento precoce, testare l'efficacia dei farmaci e soprattutto la loro tollerabilità, perché sappiamo benissimo che i farmaci antiglaucomatosi poi creano appunto anche degli effetti collaterali importanti. però diciamo che la nostra mission è quella di guardare la complessità dell'individuo cercando di superare le barriere di quella persona, che possono anche essere barriere fisiologiche. Infatti nella prima sessione parleremo della gravidanza, che non è che sia una barriera fisiologica, però è una barriera per la prescrizione dei nostri farmaci e questo è diciamo un po' la spiegazione della scelta di questo tema, cioè essere pronti noi oftalmologi che ci occupiamo anche di glaucoma, di prescrivere in sicurezza oppure sapendo che cosa stiamo facendo, perché teniamo presente che l'installazione nel sacco congiuntivale di un preparato, un betabloccante, un alfalitico, insomma, a quello che è, messo quotidianamente significa farlo andare nel corpo proprio in maniera, come se fosse assunto in maniera differenza. Per quanto riguarda invece le malattie del collagene autoimmuni, non sono poi così rare, perché se facciamo una buona anamnesi, che secondo me è fondamentale anche proprio per il successo della nostra terapia, non soltanto per il rispetto verso il paziente, vedrete che queste persone hanno la connettività indifferenziata, hanno un sacco di queste malattie diciamo del collagene autoimmuni e sono sempre più presenti, forse dovute all'alimentazione. Dobbiamo conoscere, questa è una diapositiva di due congressi fa, che avevamo parlato un po' di tutti i principi attivi, come possono intersecarsi e mi era piaciuta moltissimo questa stella, perché in realtà quello che prescriviamo può inibire o creare dei problemi con altri farmaci ed è una cosa che dobbiamo tenere presente. Nella cura, nella diagnosi del glaucoma abbiamo avuto un mezzo importantissimo, che è la possibilità di fare una prognosi. Io sinceramente vi dico che 40 anni fa, forse anche più, più di 40 anni fa, quando ho iniziato questa professione, avevamo solo il tono e due colliri. Invece adesso abbiamo la possibilità di conoscere i vari fenotipi di glaucoma e fare una prognosi, che è fondamentale questa cosa, perché la prognosi, cioè dire sei in questa situazione quindi il follow up deve essere in quella maniera, è fondamentale. E questa cosa ci è stata data anche dalla possibilità di avere una stadiazione e vedere quanto è sia la velocità di progressione e lì vedete lo schema di Brusini che credo che non ci sia nessuno che non lo conosca. Questo invece forse lo conoscete meno che è uno studio che abbiamo fatto io con Brusini e anche con Gandolfi che è l'accelerazione. Che cos'è l'accelerazione? L'accelerazione è il fatto che la progressione non è che va sempre con lo stesso andamento, sicuramente più accelerata nel glaucomatoso rispetto alla persona normale perché tutti peggioriamo, tutto degenera come diceva un filosofo, però l'accelerazione può essere legato anche a terapie concomitanti a situazioni fisiologiche ma anche a situazioni patologiche. L'ideale sarebbe avere una cartella che riunisca tutte queste informazioni e condividere queste informazioni, però una buona anamnesi e una valutazione attenta delle terapie che fanno i nostri pazienti penso che comunque ci potrebbe si sprechiamo qualche minuto in più ma ci darebbe dei grossi risultati sul nostro successo. Qui c'è la bibliografia che poi potete chiedermela e vi ringrazio per l'attenzione e passiamo alla prossima. Se volete prendere due minuti io intanto ho inviato il primo questionario per la relazione della dottoressa Paoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiamo la dottoressa Bolesca Renini e il dottor Salati. Grazie a tutti.